C'è stato un incontro della rappresentativa piemontese della categoria ragazzi contro la squadra dell'Ares di Milano per una partita amichevole al fine di verificare e testare i ragazzi nella loro attività agonistica. Nella rappresentativa piemontese erano presenti anche dei ragazzi della baseball e softball Porta Mortara? Esatto, erano presenti tre nostri atleti, Mirko Romano, Astuti Pietro e Cerami Gabriele perché questa è la rappresentativa maschile, poi ci sarà anche la rappresentativa femminile ma i nominativi delle selezionate devono ancora essere identificati. I ragazzi hanno un'età che va dai 10 ai 12 anni, direi che sono andati bene, comunque era una prova per verificare le loro attitudini all'interno di questa formazione della rappresentativa. Abbiamo anche due nostri tecnici che fanno parte della rappresentativa piemontese, sono Beppe Cerami e Carlos Montotto. Carlos Montotto è l'allenatore della categoria ragazzi, mentre Beppe Cerami è il manager della categoria allievi. E il livello com'è? Direi che è molto buono, molto buono. Si possono sperare di ottenere dei buoni risultati al prossimo trofeo delle regioni che sarà a giugno. L'anno scorso sono arrivati i secondi in tutta Italia, si spera di ottenere gli stessi risultati se non qualcosa di più e vincere il titolo nazionale.